La data delle elezioni amministrative 2022 si avvicina. I candidati sono impegnati a presentare il proprio programma, gli elettori a decidere a chi dare la propria preferenza. Le unne resteranno aperte nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Per poter votare occorre essere in possesso della cittadinanza italiana, la maggior età e la residenza nella città in cui si partecipa al voto. Ai seggi bisognerà esibire la carta d'identità e il certificato elettorale. Chi ne è sprovvisto potrà richiederlo presso gli uffici comunali e elettorali che saranno aperti anche nel giorno del voto per l'intera giornata. Nei comuni con più di 5.000 abitanti e il caso di Sapri e Camerota è possibile dare fino a un massimo di due preferenze all'interno della stessa lista. Però bisogna indicare un uomo e una donna. Se si scelgono due candidati dello stesso genere, due uomini o due donne, la seconda preferenza viene annullata per effetto delle regole sull'equoterosa e sulla parità di genere. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti, come ad esempio Sant'Arsegno, Buonabitacolo, Alfano e Laurito, si può invece indicare una sola preferenza. Nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il caso di Agropoli è eletto sindaco il primo candidato che ottiene il 50% più uno dei voti. Se nella data del primo turno nessuno raggiunge questa soglia, i due candidati più votati vanno al ballottaggio. Il 12 giugno si terranno anche le consultazioni referendarie. Al termine del voto si procederà prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e poi alle 14 di lunedì 13 giugno inizierà lo scrutinio per le elezioni amministrative.